Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. Dieci anni fa, Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. Dieci anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Banca Mediolanum